Allora, adesso vi faccio vedere che questo sistema che stiamo piano piano costruendo è di un'utilità enorme, ve lo faccio notare con due... Allora, qui riscrivo lo sviluppo di E alla x, di McLean e di sempre x che tende a 0. Quindi 1 più x, x 4 mezzi, più x alla 3, sesti, più x alla n, due m. Fattore A, più piccoli, più x alla n. Supponiamo adesso di voler fare E alla meno x. Se vogliamo sviluppare E alla meno x, abbiamo due strade di cui la seconda sarà migliore. La prima è, prendo la funzione e la chiamo E alla meno x, mi faccio le derivate e rifaccio lo sviluppo. La seconda è, questo sviluppo deve valere per ogni x. Quindi deve valere anche se sostituisco meno x al posto di x, chiamarlo con un altro nome, x uguale meno xi. E poi xi lo richiamate x. Quindi che vuol dire? E questo dovrà essere 1 meno x più meno x al quadrato, ma meno x al quadrato è x quadro mezzi. Poi meno x uguale, sesti. Insomma, per farlo a breve, i termini di ordine dispari cambiano di segno, i termini di ordine pari non cambiano. E alla fine, o piccolo di x alla n, rimane o piccolo di x alla n, perché scrivo o piccolo di x alla n, o scrivo o piccolo di meno x alla n, tra x alla n e meno x alla n ci sta un rapporto che o è 1 o è meno 1. Quindi l'ordine di piedi testo è questo. Ecco però, nel momento in cui io scrivo questa, se devo andare a fare lo sviluppo del seno iperbolico di x o del coseno iperbolico di x, chi è il coseno iperbolico, che è quello più facile? Anche l'altro è facile. Ma chi è il coseno iperbolico? E alla x più e alla meno x, diviso 2. Allora che cosa devo fare? Devo fare la semisomma di questi due. Ma quando faccio la semisomma, i termini di ordine pari, prima raddoppio e poi li devo dividere per due, quindi rimangono, i termini di ordine rispetto, che sono di semio opposto, quando arrivato a sommare, si annullano. Quindi chi è il coseno iperbolico? questo è 1 più x quadro mezzi, più x alla quarta, 24esimi, più eccetera eccetera, più x alla 2n su 2n fattoriati, più ob di x alla 2n. Cioè questa volta vanno di 2n. Questa non è proprio la semisomma di questi due, perché qua sono arrivato all'ordine 2n. e quindi posso scrivere... Vabbè, facciamo prima anche il seno iperbolico, poi li riportiamo nella nostra foto. Quando devo andare a fare il seno iperbolico stavolta, cosa devo fare? Devo fare la semidifferenza, ma quando vado a fare la semidifferenza, stavolta i termini di ordine pari si elidono, mentre i termini di ordine dispari rimangono come nella prima riga, perché x meno meno x mezzi fa x, x cubo sesti meno meno x cubo sesti di CO2 fa x cubo sesti. Quindi qua mi verrà x più x cubo sesti più x alla 2n più fratto 2n più fattoriale più ob di x cubo sesti più 2. e ce ne possiamo riscrivere. Le abbiamo ricavate e ce le possiamo riscrivere. Allora, io adesso scrivo seno iperbolico x, che è somma per h che va da 0 a n, x alla 2h più 1 fratto 2h più 1 fattoriale, più ob di x cubo sesti più ob di x cubo sesti più x alla quinta su 5 fattoriale, più ob di x cubo sesti più x cubo sesti più 1 fattoriale più 1 fattoriale più 1 fessenti più x cubo sesti più 2m più 1 fattoriale. L'ultima, coseno iperbolico di x è uguale alla somma per h che vado a 0 a m di x alla 2h per 2a. fattoriale più o piccolo di x alla 2n più 1, uguale a 1 più 4 m più x alla 4, 4 fattoriale, 2 eccetera, più x alla 2n su 2n fattoriale più o piccolo di x alla 2n, più 1, non è numero naturale. Come vedete, queste cinque forme di McLaurin sono parenti strette, ma proprio strette. Allora, e alla x l'abbiamo capito qual è ed era la più facile da ricavare. Il coseno iperbolico porta solo i termini di grado pari di e alla x perché è la parte pari, se io faccio coseno iperbolico di x più seno iperbolico di x, mi fa e alla x. Questa è la parte pari e questa è la parte di x. poi vedremo questo discorso, il discorso lo riprenderemo. E la x si può scrivere come somma di una funzione pari e di una funzione dispera. La funzione pari è coseno iperbolico di x, la funzione dispera è coseno iperbolico di x. Quando noi andiamo a sviluppare in formula di McLaurin, la parte pari porterà solo i termini di ordine pari e quella dispera porterà solo i termini di ordine pari. Quindi qui avrò tutti i termini alla x ma solo quelli di grado pari, qui avrò i termini alla x ma solo quelli di grado disperi. e mi daranno rispettivamente il coseno iperbolico e il seno iperbolico. Poi, quando sono andato a fare coseno e seno, le formule sono esattamente quelle del coseno iperbolico e del seno iperbolico tranne che per un fatto. Siccome, se vi ricordate, la derivata di seno iperbolico era coseno iperbolico, la derivata di coseno iperbolico era seno iperbolico. Non c'erano problemi di seno. Invece la derivata di seno è coseno, ma la derivata di coseno è meno seno. Allora, questo problema di questo segno di appare, fa sì che quando andiamo a sviluppare le formule, le formule hanno la stessa identica struttura tranne che per il fatto che questa porta tutti i termini di ordine pari del d e alla x ma i termini sono disperati. Quindi è come il coseno iperbolico, ma invece di avere tutti i segni positivi, porta i segni al termine. Quindi, invece di avere 1 più x quadro e mezzo e x alla quarta su quattro quattoriale, ci avrà 1 meno x quadro e mezzo e x alla quattoriale e meno x alla 6 su 6 quattoriale. Identicamente, cioè analogamente, il seno, invece di avere i termini del seno iperbolico, cioè i termini disperati di e alla x, avrà quei termini ma con i segni al termine, sempre partendo dal segno iperbolico. Quindi, stavolta, invece di avere x più x quadro 6 più x alla 5 su 5 fattoriale, eccetera, avremo x meno x quadro 6 più x alla 5 su 5 fattoriale, eccetera. Quindi, queste 5 fattoriale non sono talmente così relazionate l'una con l'altra che è impossibile con quello, è impossibile. Se uno conosce un meno di analisi 1, queste forme non le può sbagliare. Chiaro? Va bene, quindi queste qua sono le prime 5 formule di McLaren che abbiamo studiato. Adesso ne voglio fare almeno, ah, voglio dire almeno altre due cose per oggi, che abbiamo più o meno giusto il tempo per fare. Ecco, ricollegandomi a quello che abbiamo detto poc'anzi per ricavare lo sviluppo del seno iperbolico del coseno iperbolico, e adesso abbiamo ricavato, abbiamo ricopiato, quindi non lo dovrei fare. Cioè, qui lo possiamo macellare, lo conserviamo sotto. Supponiamo di voler sviluppare la funzione e alla meno x quadro. Allora, naturalmente, la premessa per scrivere queste formule di McLaren qual'era? l'abbiamo detto ieri, ma oggi non l'abbiamo ripetuto, è che le funzioni fossero di classi C-infinite, perché se sono di classi C-infinite io posso scrivere la forma di McLaren per ogni valore di n, altrimenti, se posso usare soltanto di classi C-infinite, le devo fermare all'ordine C-infinite. Ok? Va bene? Allora, proviamo a sviluppare in formula di McLaren, cioè in formula di terro vicino a 0, la funzione e alla meno x quadro. Secondo voi, devo rifare tutto... Allora, una possibilità è... f di x, vi faccio le prime due derivate, e alla meno x quadro. Poi abbiamo f' di x uguale a meno 2x e alla meno x quadro. Questa è la prima derivata. La seconda derivata, f' di x, fa meno 2 e alla meno x quadro, più 4x quadro e alla meno x quadro. Cioè devo fare meno 2 alla derivata di questo, perché questo non è derivato, più la derivata di questo che porta un altro meno 2x a moltiplicare questo. Allora, come inizia la formula di McLaren? Allora, f di 0 fa 1. f' di 0 fa 0, quindi 3 meno 1 non c'è. f' di 0 fa meno 2. Quindi qua devo fare meno 2 mezzi, cioè meno 1, f di x quadro, più. E poi continuo. Però, adesso, quando continuo a fare le derivate, devo fare le derivate e calcolarle in 0. Ammetterete che la cosa si complica. Perché adesso ci sono funzioni di funzione, ma anche prodotti. E quindi, più vado avanti, più la cosa si ingalvoglia. ma è veramente necessario andare avanti e farla così questa formula. Io dico di no, perché se quello sviluppo è alla x vale per ogni x. Deve valere anche se al posto di x ci metto meno x quadro. Allora, vediamo. Più la termina si trova 1. Secondo termina, al posto di x ci metto meno x quadro, si trova. Più meno x quadro. E il termine successivo quale sarà? Sarà x alla quarta mezzi. E il termine successivo quale sarà? Meno x alla 6, sesto. E il termine generico quale sarà? Più meno 1 alla n, x alla 2n fratto n! E il termine successivo quale sarà? O piccolo di x alla 2n più 1. Perché il termine successivo sarà di ordine 2 in più. Lo sappiamo, perché la prossima derivata farà 0, 0. Chiaro? Quindi, una volta fatto quello di alla x, è inutile fare quello di alla meno x quadro. Basta mettere meno x quadro al posto di x. Beh, è un bel vantaggio, perché stavolta mi sono risparmiato una bella lista di derivati. Ora, questa funzione, in particolare, noi non la includiamo nella nostra tabella, ma potrebbe lo stesso avere un interesse, perché vi tornerà di interesse quando andrete a fare chi di voi farà calcolo delle probabilità. Chi farà calcolo delle probabilità questa funzione serve? perché da questa funzione derivano le densità, la densità di una variabilitatoria gaussiana, è parente a questa funzione. Ok? non è esattamente questa funzione, ma è parente a questa funzione. Quindi, questo è un fatto notevole, è un fatto notevole perché io ricordando, cioè a me non serve neanche averla questa nella lista, perché se mi ricordo che alla x quando devo sviluppare la meno x quadro, metto meno x quadro e posso dire, basta. È chiaro? Va bene, andiamo a vedere invece un'altra questione. andiamo a fare lo sviluppo. allora, cominciamo a fare questo sviluppo qua, da 1 più x alla n. Questo che cos'è? Un polinomio. Allora, questo che cos'è? è la somma per h che va da 0 a n, di n su h per x alla h, poi per 1 alla n meno h. Ho scritto come x più 1 alla n, usata la forma di n. Allora, il binario di Newton mi dice questo. Ma questo non è anche lo sviluppo di McLaren, perché sono i termini, abbiamo visto che per un polinomio, infatti, se io faccio la derivata achesima, questa la chiamo f, p di x, se faccio la derivata achesima di p calcolata in x, questa chi è? n per n meno 1 per n meno h più 1 per 1 più x alla n meno h. Quando derivo, la prima volta scende n, la seconda volta scende n meno 1, e il grado ogni volta si è passato. La derivata achesima di p calcolata nell'origine, vale, quello diventa 1, diventa n, praticamente n fattoriale su n meno h fattoriale. Quindi, io cosa devo fare? P di x, se vi ricordate quello che abbiamo detto nella prima ora, è somma per h che va da 0 a n, qua ci devo mettere n fattoriale fratto n meno h fattoriale, fratto h fattoriale, perché questo compare nella forma di un plasma, derivata achesima di 0 fratto h fattoriale per x alla n, ma questo è esattamente n su h, quindi vedete, io ottengo lo stesso risultato, ottengo lo stesso risultato di prima e mi dà il meno h. Andiamo però a fare, adesso, un altro sviluppo. Andiamo a fare lo sviluppo 1 fratto 1 più x. Questo sviluppo qua, l'avevamo fatto senza conoscere come sviluppo di McClary, l'avevamo fatto senza conoscere nessun teorema sulle formule di Taylor. Se vi ricordate, questo era 1 meno x più x quadro più eccetera eccetera, più meno 1 alla n x alla n più o vincolo di x alla n. Questo qua derivava dal fatto che questo per questo fa 1 più x elevato alla n più o vincolo di x alla n. Ma x elevato alla n più o vincolo di x alla n. Se vi ricordate, derivava da quel prodotto notevole, il numero di cui lo conoscevai dalle superiore, dalle superiore. Scusate, fa 1 meno x alla n. va bene, fa, meno più fa, dipende... cioè questo per questo fa 1 meno x quadro, questo per questo fa 1 più x quadro. non ci siamo capiti. Ok, comunque dai prodotti notevoli delle superiori derivava questo sviluppo. Ma questo sviluppo come lo posso scrivere? Bene, introduciamo questa notazione. Allora io scrivo che alfa su h è uguale, per definizione, ad alfa per alfa meno 1, per alfa meno h più 1, fratto h fattoriale. Questo qua parte, però ogni alfa appartenente. questa definizione non contraddice quella n su h, perché n su h, se fate questo diviso questo, fa esattamente n per n meno 1 per n meno h più 1, fratto h fattoriale. Quindi va bene anche, per i numeri naturali funziona. Soltanto che questa definizione la posso dare per tutti i numeri reali. Allora, vediamo se avete capito questa definizione. Quando è che alfa su h fa 0? No, con h uguale 0 h fattoriale fa 1. Si deve annullare il numero, per annullarsi il numeratore cosa ha bisogno? che sia 0 o 1 dei fattori. Quindi o alfa uguale a 0, o alfa meno 1 uguale a 0, o alfa meno h più 1 uguale a 0. Quindi cosa bisogna? Bisogna che alfa sia un intero minore di alfa. Per esempio 3 su 4, coefficiente binomiale 3 su 4 fa 0. Questo noi non l'avevamo introdotto come definizione ma non ha nulla in contrario a quella che abbiamo dato in precedenza. Perché nei casi precedenti coincide con 4. Cioè se n è maggiore o uguale di h, ed è un numero naturale, n su h viene quello di primo. Se alfa adesso è un numero qualunque reale, per esempio anche un numero intero ma minore di h, oppure anche negativo, oppure un numero non intero. Per definizione, alfa su h si fa così. Allora andiamo a fare, meno 1 su h, quanto fa? Allora che devo fare? Devo fare, meno 1 per meno 2, per meno 3, per meno 1 meno h più 1, cioè viene meno a, fratto h fattoriale che è 1 per 2 per a. Cosa mi viene? Semplificate tutto, dovranno i segni, ma i segni quanti sono? H, quindi mi rimane meno 1 all'a. Quindi questo qui, questa espressione qua, non è altro che somma per h che va da 0 a n, vabbè non la scriveremo mai così, la scriveremo sempre così, però la potrei anche scriveremo così, meno 1 su h per x alla h più x alla h. E perché è vero questo? Chi è 1 più 1 su h? 1 fratto 1 più x, è 1 più x alla meno 1, o no? E allora vedete, se 1 più x alla n fa somma per h che va da 0 a n di n su h per x alla h, qua il resto non c'è perché è n interno. ed è positivo, ed è positivo, n è naturale, quindi quello è un polinomio, questo non è un polinomio, questa funziona. stavolta mi viene somma per h che va da 0 a n di meno 1 su h, x alla h, diciamo qua, n mi fermo perché mi voglio fermare, perché diciamo posso scrivere questa formula per ogni n, qua aveva senso fermarsi a n perché n era il grado del polinomio e quindi dopo il resto era 0. quindi non fate confusione tra il grado del polinomio e dove ci vogliamo fermare. Io questa formula qua la posso scrivere anche fermandomi prima e poi per esempio mi posso fermare a k e poi scrivo più piccolo di x alla k. Invece di fermarmi a n posso fermarmi prima. Quindi qua meno 1 perché qua c'è meno 1, qua c'è n perché là sopra c'è n. Quindi vedete che usando questa terminologia, io questa definizione, questa e questa, tranne il fatto che questa arriva a un certo punto e finisce e non c'è resto, ma sono sorprendentemente simili. Ok? E allora andiamo a vedere se questa cosa si... Vediamo un po', se io devo sviluppare la radice di 1 più x, secondo voi chi sarà? Opportunamente vi è stata cancellata la forma di prima, quindi ci dovrebbe arrivare... Però questa ce la vediamo. Io dico che farà, chi è questo qua? È 1 più x alla un mezzo. Io dico che questo farà sommatoria per h che va da 0 a n di un mezzo su h per x alla h più o piccolo di x alla n. Perché l'esponente stavolta è un mezzo. Però questa non è una dimostrazione perché se tutto funzionasse così, perché in due casi funzionava, dobbiamo dimostrare. E allora andiamo a vedere se è vero. Andiamo a vedere se è vero. Andiamo a vedere se è vero. Allora, questa è la mia funzione. Cancelliamo quello che non c'entra. Va bene, la definizione, ormai la sappiamo, la possiamo cancellare. Allora, cominciamo a scrivere le prime derivate. Questa è f di x. F meno di x chi è? La derivata di 1 più x alla un mezzo fa 1 mezzo per 1 più x alla meno un mezzo. La derivata seconda di x quanto fa? 1 mezzo per meno un mezzo per 1 più x alla meno tre mezzi. La derivata terza di x, di f, calcolata di x, farà 1 mezzo per meno un mezzo per meno tre mezzi per 1 più x alla meno cinque mezzi. La derivata di x alla un mezzo per meno un mezzo per meno tre mezzi. Questa cosa la devo fare h volte. Quindi devo fare 1 mezzo per meno un mezzo per meno tre mezzi. L'ultimo chi sarà? Sarà 1 mezzo meno h più 1. E questo è 1 mezzo meno zero, questo è 1 mezzo meno uno, questo è 1 mezzo meno due, l'ultimo l'acchesimo sarà 1 mezzo meno h più 1. Cominciato a zero, se sono h finisco ad h meno 1. Meno h meno 1 fa meno h più 1. Per 1 meno x alla un mezzo meno h. Allora 1 più x alla un mezzo meno. Ora però, quando vado a calcolare queste derivate, tutti questi pezzi con 1 più x, calcolati in zero, farò tutti 1. perché 1 più 0 fa 1 e quindi quando vado a scrivere la mia formula di telo cosa verrà? Verrà f di x uguale somma per h che va da 0 a n di un mezzo su h perché questo è esattamente il numeratore di un mezzo su h. Poi devo dividere per h fattoriale, mi viene il denominatore e quindi lo metto insieme e lo metto su h. Per x alla h più, poi questi pezzi qua ci sono, ho vinto di x. Cioè esattamente la formula. Cioè quando vado a valutare in zero spariscono i pezzi con le x. Quando vado a dividere per h fattoriale le derivate alchesime franto h fattoriale mi fanno questo. Forma di meccanico, derivate alchesime franto h fattoriale, poi x alla h più o più. E abbiamo ottenuto questa forma. Allora, a questo punto io ci riprovo con alfa, con l'esponente generico alfa. Allora, se qua ci metto 1 più x all'alfa, qua mi verrà al posto di un metro, mi verrà alfa. Per quale motivo? Beh, addirittura lo sviluppo è anche più semplice. Perché? Chi è la derivata prima? È alfa per 1 più x all'alfa meno 1. Chi è la derivata seconda? È alfa per alfa meno 1 per 1 più x all'alfa meno 2. Chi è la derivata alchesima? È alfa per alfa meno 1 per alfa meno h più 1 per 1 più x all'alfa meno h. Quando vado a scrivere la formula di Denon, devo calcolare questa in 0, di McClaren, scusate, e mi viene il numeratore di alfa su h. Poi devo dividere per h fattoriale e mi viene esattamente alfa su h. Poi devo moltiplicare per x all'h, devo fare la somma per h uguale a 0, e quello che rimane è di ogni 1. Quindi mi avvenuto la formula. In tutti i casi, generale per ogni valore di alfa. Questa vale per ogni valore di alfa. Allora uno potrebbe dire, no, 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 non mi fai fesso. Perché se vale per ogni valore di alfa, deve valere pure per alfa uguale a 5. Numero intero positivo. E questa però, qua c'è scritto n, n puoi prendere anche 7. Certo che lo posso prendere anche 7. Perché se vi ricordate, se io qua ci metto 5 e qua ci metto 7, quando vado a fare 5 su 6 e 5 su 7 quanto viene? 6. Cioè, la formula è fatta in maniera tale che quando abbiamo un esponente intero positivo, i coefficienti da n più 1 in poi, se avevo 1 più x alla n, i coefficienti quando vado, se alfa erano intero positivo, i coefficienti da n erano da alfa più 1 in poi, erano tutti quanti. Nulli. E quindi la formula ritornava una scrittura finita, così come avevamo visto per i polinomi. Chiaro? Quindi la formula generale per lo sviluppo di 1 più x alla alfa è questa. La riscriviamo qua. Allora, come vedete questa è una formula di una certa importanza. qua c'è scritto lo sviluppo di 1 fratto 1 più x, 1 più x alla meno 1. C'è scritto lo sviluppo di 1, di qualunque binomio, diciamo, del binomio di nudo è 1 più x alla n. C'è scritto lo sviluppo della radice di 1 più x. c'è scritto lo sviluppo di 1 fratto la radice di 1 più x alla meno 1 metro. Quindi ci sono scritti tanti sviluppi. Qua detto. tutto sta ad avventato quella piccola variante per quanto riguarda la definizione di alfa su h. va bene, quindi questa è un'utteriore formula da tenere nella nostra lista. ovviamente quando io ho questa formula posso anche sviluppare radice di 1 più x quadro. Se voglio sviluppare radice di 1 più x quadro, come farò? sarà 1 più x quadro alla 1 mezzo, quindi in quella formula metterò alfa uguale a 1 mezzo, e al posto di x ci metterò x quadro. Similmente quando devo fare la x quadro. Allora, abbiamo altri 10 minuti. In questi 10 minuti voglio fare l'ultima formula di oggi. Questa è una formula che non scriviamo in modo generale, ma ne scriviamo solo qualche termine. Allora, la formula è quella di tangente x. Cioè, sen x su coseno x. Allora, qui vogliamo arrivare soltanto all'ordine 5. Non perché questa formula non si possa scrivere, e si può scrivere nella forma generale, ma la scrittura è complicata. Bisogna introdurre delle funzioni opposte e non vale la pena di ricordarla. Allora, però per quegli scopi per cui dovremmo usarla noi, ci basterà svilupparla fino all'ordine 5, è stata sovrabbondante. Molto spesso in realtà la useremo solo fino all'ordine 5. Però per esercizio sviluppiamola fino all'ordine 5. Allora, per poterla svilupparla fino all'ordine 5. Io dico che il numeratore x meno x cubo 6 più x alla quinta su 120 più o piccolo di x alla 6 e il denominatore 1 meno x quadro meno x alla quinta su 120 più o piccolo di x alla 6 si sviluppa entrambi fino all'ordine 5. Questo è sviluppato fino all'ordine 5, perché qua c'è o piccolo di x alla 5, scusate. Perché il termine successivo è di ordine 6. Qua addirittura posso specificare che il termine successivo è di ordine maggiore di 6. Adesso cosa devo fare per fare il caldo? Devo semplicemente togliere quel denominatore. Come si fa a togliere quel denominatore? Il numeratore rimane identico. Ok. E il denominatore come si fa? Si pone tutta questa quantità, la si chiama T. e ci si ricorda che quando x tende a 0 tutti questi che sono infinitesimi sommati tendono a 0, perché l'1 non ce l'ho messo dentro il punto. Quindi abbiamo 1 fratto 1 più T. Allora 1 fratto 1 più T cosa fa? fa 1 meno T quindi meno meno x quadro mezzo più x alla quarta di quattro esimo più o piccolo x alla 5. poi più T quadro, cioè meno x quadro mezzo più x alla quattro esimo più o piccolo x alla 5 al quadrato, più il termine successivo parte da T cubo e T cubo. sarebbe meno T cubo. Però non mi interessa perché il termine di ordine più basso in T cubo è x quadro al cubo che fa x alla 6. Quindi il termine successivo qua dentro è sicuramente più o piccolo di x alla 5. Adesso, prima di fare l'ultima moltiplicazione, andiamo... questo lo ricopriamo tale e quale. Qua andiamo a fare che cosa? 1, qua dobbiamo semplicemente cambiare segno. Quindi viene più x quadro mezzi meno x alla quarta su 24. Poi meno piccolo di x alla 5 e più piccolo di x alla 5 farò piccolo di x alla 5. Cioè, meno questo finisce qua dentro. Io uso chiamare il termine che raccoglie gli infinitesimi di ordine superiore e vi do un aspiratore. Cioè non aspira proprio tutto, però aspirerà tutti i termini. Poi adesso cosa devo fare? il quadrato di questo, ma il quadrato di questo mi porta più x alla quarta quarti. E poi basta, perché se mi voglio fermare i termini di ordine 5, ci saranno il quadrato di questo, il quadrato di questo, il quadrato di questo, poi ci saranno i doppi prodotti. Ma anche il doppi prodotto di ordine più basso, x quadro per x alla quarta, fa x alla 6. Quindi tutto il resto è di ordine o piccolo di x alla 5. Adesso, questa quantità qua, fa 1 più x alla quarta, x quadro mezzi, qua, un quarto, quanti ventiquattresimi sono? 6 ventiquattresimi, meno 1 fa più 5 ventiquattresimi. Tutti gli altri termini sono di ordine superiore a x alla quarta. E adesso cosa mi è rimasto di fare? Mi è rimasto da fare l'ultima moltiplicazione. Quindi cosa mi viene? Fatemi cancellare questa perché non serve più. Allora abbiamo, andiamo per ora. Prima abbiamo 1 che moltiplica, quindi abbiamo x meno x cubo sesti, più x alla 5 su 120, più piccolo di x alla 6. Più piccolo di x alla 6, metto 4. Poi abbiamo, meno x cubo sesti, anzi qua, meno x cubo sesti, meno, qua ho sbagliato, ho sbagliato perché x meno, dobbiamo ubicare per quello di sotto, non per quello di sotto. Quindi x, ah no no, l'ho detto bene. 1, era x meno, non avevo sbagliato, era questo 1 per questi qua. Quindi x meno x cubo sesti, più x alla 5 su 120, non ho sbagliato. Poi adesso devo prendere x quadro mezzi per questi qua. Quindi mi viene più x cubo mezzi, meno x alla 5 su 12. x quadro mezzi per questo, x quadro mezzi per questo, e poi basta perché x quadro mezzi per x alla 5 fa x alla 7. L'ultimo è più 5 ventiquattresimi x alla quarta per x, che fa 5 ventiquattresimi x alla 5. e poi basta, e il resto, o piccolo di x alla 5 per x è o piccolo di x alla 6. Quindi fate attenzione che mentre qua compare o piccolo di x alla 5, quando andate a fare la moltiplicazione, quello che vi avanza è un infinitesio di ordine superiore a 6. Infatti la tangente di ordine dis, ma dopo l'ordine 5, verrà l'ordine 7. Adesso cosa mi è rimasto da fare? Solo delle semplificazioni. Quindi qua mi viene x e l'ho contato. Poi meno un sesto più un mezzo fa più un terzo. Quindi qua fa più x cubo terzi. Poi, qua cosa devo fare? In centoventesimi, qua ho un centoventesimo, meno 10 centoventesimi, più 5 per 5, 25 centoventesimi. Per x alla 2. Adesso 25 meno 10 fa 15 più 1 fa 16. 16 centoventesimi divido per 8 fa 2 quindicesimi per x alla 5. Questo è lo sviluppo della tangente. Ovviamente, quando faremo lo sviluppo dell'arco tangente, vedremo che l'arco tangente fa x meno x cubo terzi. e quindi la tangente, da quello capiremo che la tangente fa, è giusto che faccia x più x cubo terzi. Però, questo lo vedremo un'altra volta. Però, questo termine qui, l'abbiamo voluto calcolare, pensiamo al mercato, giusto per sapermi. Che effettivamente, così almeno conosciamo lo sviluppo della tangente, almeno fino all'ordine 6, perché l'ordine 6 non c'è fa 0. E va bene, quindi abbiamo, con oggi abbiamo creato una prima lista di 5, 6 con 1 più x all'alfa, 7 con lo sviluppo della tangente, sviluppo di McLaurin, di funzioni che poi potranno esserci utili, per calcolare i limiti, calcolare un sacco di quantità. Arrivederci!